Giusto per fare un video clickbait, oggi voglio mostrarti le 10 applicazioni, i plugin audio che uso e che consiglio, tutti rigorosamente open source per Linux. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Cominciamo dall'applicazione più ovvia, ma oggi anche la più controversa, cioè Audacity. Audacity è un ottimo editor audio, che permette di modificare e applicare effetti in maniera semplice e veloce ai file audio. Io lo uso per i miei video per applicare riduzione del rumore, compressione e normalizzazione. Ho detto controversa perché da quando Audacity è stata acquistata da Muse Group, i nuovi proprietari stanno applicando scelte molto discutibili, come far firmare un CLA a tutti coloro che contribuiscono al codice, permettendo così a Muse Group di ignorare bellamente la licenza GPL, oppure inserendo telemetria all'interno del codice. Cosa che, se gestita bene, permette agli sviluppatori di capire quali parti di interfaccia utente sono migliorabili, ma se gestita male, è un danno per la privacy di chiuse il software. Viste queste scelte, sono sorti una marea di forchi di Audacity, anch'essi però con le loro controversi, che non voglio stare qui da approfondire. Fatto sta che sono sicuro che in futuro capiterà una di queste due possibilità. O Muse Group ascolta le critiche mosse alla nuova direzione presa da Audacity e continua lo sviluppo del software nel rispetto del software libero e della privacy. Oppure uno dei tanti fork avrà una leadership abbastanza competente per portare avanti un progetto di tali dimensioni, e la maggior parte degli sviluppatori di Audacity sposteranno la loro attenzione su quel fork, e le distribuzioni Linux inizieranno a pacchettizzare quel fork al posto di Audacity. Un altro software che uso praticamente quotidianamente è Katia, che fa parte della suite Cadence originaria di KX Studio. Dico originaria di KX Studio perché se vuoi installarlo su Ubuntu è necessario abilitare i ripositori di KX Studio. Katia permette di collegare gli input e gli output delle varie schede audio e delle varie applicazioni, permettendo così, per esempio, se ho il microfono sul canale 1 delle schede audio, lo faccio passare per un compressore, e l'uscita del compressore la collego, per esempio, a zoom. Parlando di compressore, passiamo al prossimo software audio, KALF. KALF è una collezione di plug-in audio utilissimi, che vanno da noise gate, compressore, equalizzatore, riverbero, delay, e chi più ne ha più ne metta. Visto che mi diletto con la chitarra, uso tantissimo anche il software GuitarX, che è un simulatore di amplificatore valvolare e cassa per chitarra, con tutti i vari effetti che potresti volere. Non è troppo intuitivo da utilizzare, però, almeno all'inizio, ma se sai come usarlo, dà risultati abbastanza buoni. Se sei interessato ad un tutorial per come utilizzare questo software, scrivimelo qui nei commenti. Rimanendo in tema di chitarra, uso anche Tux Guitar, che legge e riproduce i tab di Guitar Pro che trovi su internet, e ti permette di modificarli nel caso volessi, per esempio, adattare il tab alla tua accordatura, e ti permette anche di esportarli in file MIDI nel caso volessi registrare una cover della canzone. Per registrare una cover della canzone hai bisogno di un plug-in per la batteria, e in questo caso consiglio vivamente DrumGizmo, che dà ottimi risultati. Per installare DrumGizmo su Fedora occorre abilitare il repository Linux Mao di Ian Collette. Il plug-in da solo però non basta, perché hai anche bisogno di un sequencer MIDI dove programmare la batteria, ed in questo caso ti consiglio il software Muse. Apro una parentesi old school adesso. Per comporre musica utilizzo anche il software MilkyTracker, che permette di creare musica come si faceva con ProTracker su Amiga o con FastTracker 2 su DOS. Le musiche del videogioco Frank Dodillo le ho composte proprio con MilkyTracker, come pure le parti di batteria e basso della musica del videogioco Dawn of Ultrapong. Tornando a software più moderni, la miglior digital audio workstation che ho provato è Ardour. Utilizzando i plug-in DrumGizmo, Kalf e GuitarX, sotto Ardour è possibile registrare e mixare canzoni e musiche con risultati eccezionali. Tornando al MIDI, hai anche bisogno di strumenti e di sintetizzatori. Cominciamo con SetBeFree, che è un simulatore di organo Hammond molto personalizzabile, con un suono davvero notevole. Continuiamo con il sintetizzatore ZNAD SubFX, che per l'appunto è un sintetizzatore, con tanti preset già inclusi, ma se ti piace pacioccare con le forme d'onda ti permette di creare suoni davvero unici. Concludendo, queste sono le applicazioni audio che uso io personalmente. Se in questa lista non trovi applicazioni famose come per esempio LMMS, Qtractor o Rose Garden, è perché lo provate e non fanno al caso mio. Ad ogni modo, fammi sapere nei commenti quale applicazioni audio usi, così possiamo scoprire tutti qualcosa di nuovo. Grazie dell'attenzione, ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey, trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video, ciao!